Siamo stati in anticipo all'appello del parrocchio, la nostra parrocchia ha già dato e già fatto diverse cose per discorso ai migranti e anche sul discorso di ospitare delle famiglie che non sono emigranti ma due famiglie che avevano uno sfratto esecutivo, le abbiamo ospitati in due piccoli appartamenti che la parrocchia ha, uno vicino all'oratorio e l'altro nella casa parrocchiale di Mocogna perché io sono anche parroco di Mocogna e per cui abbiamo già aperto le porte della parrocchia.